Al di là del teatro, come è stato incontrare di persona Paolini? È stata sicuramente un'emozione, soprattutto perché abbiamo incontrato non tanto l'attore, ma quanto l'uomo. E quindi è stato un vero e proprio incontro con una sua filosofia di teatro, e soprattutto anche un incontro con quello che è stato il suo spettacolo, che ci ha estremamente colpito, trattando un argomento che in realtà è anche molto vicino al nostro, ad esempio, piano di studi. Quindi è stato un incontro estremamente formativo e realmente emozionante. E che cosa vi ha emozionato di più dello spettacolo? Beh, sicuramente tutti gli stimoli che questo spettacolo suscita, e il fatto che comunque ha presentato Ulisse in un modo molto diverso da quello che siamo abituati a pensare. Noi studiamo presso l'Iceo Classico e sicuramente abbiamo una certa visione di Ulisse, che deriva dal nostro tipo di studi, sia in italiano che in greco. E poter vedere Ulisse sotto un altro punto di vista, appunto quello portato da Marco Paolini, è stato sicuramente molto emozionante e particolare perché ci ha permesso di riflettere su un personaggio così noto e così conosciuto, ma appunto sotto un'ottica diversa. Non ve lo immaginavate così umano Ulisse? Ulisse assolutamente no. O forse meglio, la prima volta che abbiamo incontrato, comunque siamo entrati in contatto con l'Odissea, non era questo sicuramente l'immaginario di Ulisse. Forse è l'Ulisse che ci ha portato sul palco, è l'Ulisse di cui abbiamo realmente bisogno. E quindi è comunque stato un incontro piacevole. E sicuramente anche noi abbiamo studiato l'Odissea quando eravamo più piccoli, e quindi trovarci all'ultimo anno e poter avere forse una visione veramente a 360 gradi di Ulisse, anche questo è stato molto importante, sicuramente una cosa che ci porteremo proprio come nostra formazione personale. Il Liceo Mazzini oggi ha incontrato Marco Paolini. È una bellissima occasione. Noi cerchiamo di permettere ai ragazzi di incontrare delle personalità del mondo, del nostro territorio, del mondo del teatro, dello spettacolo, della cultura, nel campo della filosofia, della storia, proprio per cercare di fare in modo che i ragazzi abbiano la percezione che quello che stanno studiando è utile per affrontare la vita e la realtà, per affrontare le questioni di ogni giorno. Mi sembra che lo spettacolo di Marco Paolini e l'incontro che c'è stato oggi abbia fatto capire che attraverso un classico come Ulisse si possono scoprire molti segreti della vita di oggi. Si è parlato infatti anche di tecnologia del solco tracciato da internet nei nostri giorni. Sì, ha parlato del solco delle strade romane, che sono gli stessi solchi che hanno condizionato la costruzione per moduli dello shuttle e questo attraverso un passaggio di secoli, diciamo così, di mano in mano, una tradizione classica è arrivata fino a interessare le scoperte tecnologiche. Allo stesso modo le connessioni che oggi permettono facilmente di arrivare a incontrare tantissime persone o mondi diversi, lontani da noi, hanno bisogno di avere una consapevolezza, una coscienza, una cultura che può attraverso, sulla base del mondo classico, essere giudicata e utilizzata nel modo migliore. Questo credo che sia proprio il lavoro che il liceo classico linguistico Mazzini cerca di fare ogni giorno nelle sue aule. Quale sarà il prossimo incontro degli studenti? Abbiamo in cantiere alcuni incontri interessanti, ci sarà la settimana dei classici a fine novembre e prevediamo che venga Maestrine, il presidente per Genova e direttore generale di Fincantieri che sta lavorando per la ricostruzione del ponte. Anche lui è una persona che ha fatto studi classici, oggi è chiaramente un ingegnere ma è interessante, vogliamo un po' approfondire il fatto di come attraverso, partendo da una base di studi di questo tipo si possa poi affrontare i problemi concreti e molto tecnici che il mondo ci propone. Del resto Renzo Piano è stato un alunno del, anche lui, un alunno del liceo Mazzini. Grazie. Grazie.